Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale Oggi fanni glitch ragazzi, in poche parole resteremo in modo perenne con la visuale distorta Avete presente la visuale quella distorta di quando usiamo il turbo ragazzi con i veicoli? Quindi rimarremo perennemente con quella visuale là Allora requisiti ragazzi, dobbiamo possedere un'auto ragazzi con le ruote da F1 Non è importante quale modello, l'importante è che è una macchina che ha le ruote da F1 ragazzi che ha il turbo Quindi a questo punto una volta comprata, che la trovate su leggendari ragazzi, costa un botto Quindi fatevela passare se riuscite, vi lascio in descrizione tutti i link per scambiare ragazzi Quindi a questo punto cosa facciamo? Una volta arrivata la macchina ragazzi, semplicemente andremo a piazzarci una bomba adesiva sul tetto A questo punto ragazzi saliamo sul veicolo e dovremo accelerare, schiacciare il turbo ragazzi Fare qualche metro e farci esplodere schiacciando freccia sinistra ragazzi E a questo punto quando spawneremo raga e sbada bam avremo la visione distorta perenne ragazzi Allora, questo glitch non si sa mai raga che riusciamo a sfruttarlo per qualcos'altro Quindi chi sta guardando questo video ragazzi e vuole provarlo e cercare di capire come possiamo sfruttare questo bug Che magari possiamo recuperare qualcos'altro da questo bug, ve lo faccia sapere Quindi ragazzi, spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix Vi ricordo che ho aperto Twitch, link è in descrizione Iscrivetevi ragazzi, vi aspetto in tanti In modo tale che appena arriviamo a 50 iscritti inizierò regolarmente a portare contenuti anche sul canale viola Quindi a questo punto ragazzi io vi lascio, ci sentiamo, alla prossima Bella raga! Bella raga!